Ciao, buongiorno, buon trading a tutti, vi aspetto sabato mattina alle 10 per il consueto webinar di analisi tecniche insieme al nostro broker XM, il webinar chiaramente gratuito e sarà dedicato a una figura di analisi tecnica che non sempre, non facilmente si trova sui grafici, cioè il pennant, ma che quando si trova offre delle ghiotte opportunità di trading con un'alta percentuale di realizzazione e con un risk reward ottimale. Sarà aperta la chat per fare domande e interagire e come ogni webinar a tutti i partecipanti che poi ne faranno richiesta saranno inviate le slide che avremo visto insieme. Per iscriversi è sufficiente andare all'indirizzo che trovate nella descrizione di questo video e sarà un'ora che passeremo insieme e faremo chiaramente come sempre anche una panoramica sui mercati per il trading della settimana successiva per vedere quale opportunità ci sono. Per cui vi aspetto sabato mattina alle 10, un'ora insieme e buon trading a tutti. Grazie. Grazie.